gli ha fatto una prestazione che dovevamo fare, purtroppo ancora non abbiamo la capacità, la lucidità e la qualità di scegliere gli spazi giusti dove andare a fare le nostre giocate, oggi c'erano, abbiamo ancora questa poca profensione a farlo, questa paura di giocare dove ci sono gli spazi che ci lascia l'avversario e poi abbiamo ancora dei tratti dove quando entriamo nella difficoltà, che può essere fisica piuttosto che l'avversario prova a venirti a riprendere, entriamo nella difficoltà e con fatica e con poca gestione riusciamo a gestire questa difficoltà con il palleggio, con il possesso palla, con lottare su ogni duello e dobbiamo lavorare su questo adesso domani mattina ci troveremo a fare allenamento e prepariamo già la partita di giovedì, ovviamente anche oggi di Hop speriamo non sia un lungo stop e quindi insomma sarà un lavoro di ripristino e di preparazione alla partita di giovedì, un'altra partita fondamentale perché anche oggi su una disattenzione paghiamo, paghiamo, lasciamo due punti su questo campo sempre difficile e ostico lo sapevamo ma dobbiamo riprendere subito e lavorare su questa gestione di questa difficoltà grazie a tutti